pan di spagna fatti in casa velocemente con solo tre ingredienti senza lievito iniziamo a montare le uova con lo zucchero ci vorranno circa 4 minuti sono 200 grammi di uova 200 di zucchero lavoriamo alla massima velocità con le fruste elettriche ed ecco il composto bello gonfio e cremoso a questo punto possiamo aggiungere anche la farina uguale peso delle uova e dello zucchero l'andiamo a setacciare poca per volta e andiamo a mescolare con una spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto in questo modo incorporiamo tutta la farina senza sgonfiare il composto di uova e zucchero poi mettiamo tutto in uno stampo imburrato infarinato da 22 centimetri e cuociamo in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti ed ecco lo sfornato lasciamo raffreddare su una griglia